Buonasera, buonasera e bentornati alla Tu per Tu. Benvenuto al granditissimo ospite Roberto Caronno, buonasera. Caronno è un medico prima di tutto, primario di chirurgia all'ospedale di Como, ma qui lo ospitiamo in altre vesti, almeno per il momento, poi più avanti parleremo anche della sua professione, della sua esperienza nel settore. Qui parliamo invece di una sua pubblicazione, di un suo libro uscito di recente che si intitola Piccoli misteri del Sacromonte di Varese, quindi la nostra vetta per eccellenza, edito da Macchione con una prefazione dell'amico e collega Simone Rasetti che a distanza saluto caramente. La domanda è d'obbligo, perché un libro sul Sacromonte? In effetti, libri sul Sacromonte ne sono stati scritti tantissimi. Devo dire però che pur essendoci molta bibliografia sul Sacromonte, dobbiamo tenere presente che esistono alcuni aspetti misteriosi che si discostano da quello che sono i canoni conosciuti. Motivo per cui ho deciso e ho avuto la fortuna poi di pubblicare questo piccolo saggio. Tu sei tra l'altro un esperto del Sacromonte come lo possiamo essere tanti noi varesini che amiamo farci la via delle cappelle, passeggiare, vedere quello splendido panorama, raggiungere il santuario e così via. Però sei anche un esperto di simboli e sulla via sacra ne trovi tanti. Ma in effetti il tutto è nato proprio perché casualmente una quindicina d'anni fa stavo studiando dei simboli in maniera generale e durante una delle famose passeggiate dopo post lavoro sul Sacromonte di Varese la mia vista era stata tirata da una cosa un po' particolare, da un simbolo particolare. Il simbolo di un elemento floreale a cinque petali con scritto una stella a cinque punte e direi che da lì è nato il tutto. Devo dire che questo ha aperto veramente non una porta ma un portone perché questo fiume in piena ha fatto sì che si venisse a conoscenza o comunque si indagasse un qualcosa che era lì davanti a tutti, che tutti i pellegrini potevano vedere, tutti gli estimatori del Sacromonte potevano vedere, però forse passando inosservato il simbolo era lì che chiamava, però pochi erano in grado di ascoltare, allora l'idea è stata quella appunto di dare eco a questa chiamata che ho avuto dal simbolo, da quel simbolo e aprire appunto questo luogo di mistero. Devo dire che il libro è costituito da due parti, una è una parte fotografica delle cappelle del Sacromonte, viste dal punto di vista architettonico soprattutto sulle facciate delle cappelle stesse dove ci sono appunto questi elementi, e poi invece una seconda parte che è dedicata a un vero mistero, un mistero che anche questo mi ha incuriosito ed è per caso io e un collega con cui avevamo visitato la cappella del Sacromonte avevamo visto, cioè abbiamo scoperto che su un quadrante dell'orologio del Bernasconi c'era un minuto in più. Infatti, come mai? Ecco, questa è stata la vera sfida. La fotografia con quel quadrante è rimasta sulla mia scrivania ed è ancora sulla mia scrivania per ben 15 anni. Adesso faccio solo un breve sunto, perché innanzitutto dobbiamo identificare quale dei... Prima pensavo ai quattro quadranti, poi la mia bambina mi ha fatto notare che i quattro quadranti dell'orologio non sono quattro ma sono tre. Esiste un quadrante che è quello, diciamo così, dove il pellegrino si trova di fronte adesso dopo la scritta del Sacromonte, ma non è quello in cui c'è il minuto in più. Quello che c'è in cui c'è il minuto in più è quello che dà sulla piazza dove c'è la statua del Bodini di Papa Paolo VI. Questo è probabilmente la prima cosa che mi è venuta in mente, sicuramente è stato un errore. Andando però a riscoprire alcune citazioni, pubblicazioni che sono state fatte sul Bernascone, ho scoperto che il Bernascone era un personaggio alquanto poliedrico, ma soprattutto lui per 30 anni ha visionato ogni pietra, ogni singola struttura architettonica che veniva eseguita al Sacromonte. Quindi per 30 anni in cantiere diventa veramente difficile dimostrare che quello sia un errore. Ovviamente questo lo può essere, però poco ci sta. E a questo punto è nata la riflessione, innanzitutto perché quel quadrante è non quello che tutti i pellegrini potevano vedere, quindi era una cosa che voleva essere celata al più, ma forse un messaggio per le suore romite che in pratica sono ospitate nella struttura proprio di fronte a quel quadrante. Ovviamente quindi un'implicazione di tipo religioso. Questa è stata la prima cosa. La seconda cosa è il minuto in più è identificato tra i numeri 30, quindi tra mezz'ora e i 35 minuti. Lì abbiamo un minuto in più. Ma la domanda che ne è nata è detto benissimo, c'è un minuto in più, ma quale di quei minuti è quello in più? E anche lì c'è voluto, c'è voluto un bel po' di tempo, ci sono voluti appunto 15 anni e direi che la svolta è stata una cosa molto semplice e banale. In pratica se noi prendiamo le due lancette dell'orologio e le facciamo sovrapporre, noi vediamo che ad ogni ora le lancette dell'orologio si sovrappongono seguendo una regola matematica ben precisa, che non sto qua ovviamente a spiegare, per chi lo vorrà poi il tutto è descritto nel piccolo saggio. Sta di fatto però che alle ore 6 e circa 33 le due lancette vengono sovrapposte. Il compito della lancetta cos'è? È quella di indicare un qualcosa, minuti o ore. Che cosa poteva indicare meglio di una lancetta? Due lancette, le due lancette sovrapposte. Le due lancette sovrapposte, guarda caso, vanno a finire proprio alle ore 6 e 33, indicando quello che è, a mio avviso, il minuto in più. Si apre quindi l'altro mondo, il 33, numero sacro, numero degli anni di Gesù Cristo. Però il 33 ha anche delle connotazioni un po' particolari. Nel senso che se io prendo il primo 3 del 33 e lo ribalto, e avvicino i due 3, diventa un 8, che se lo ribalto di 90 gradi diventa infinito. E qui si apre tutto il mondo sull'infinito, sulla religione, sull'immortalità, sui misteri del rosario. Ma adesso non basta ovviamente questo periodo televisivo per spiegare tutto ciò che c'è in un libricino, neanche 100 pagine, sono una sessantina di pagine, pieni zeppe di curiosità, analitiche però, perché sono fatte da chi ha studiato la materia. E poi troviamo tanta varesinità mischiata a cultura universale. Si parla del minuto in più del campanile varesino e poi si arriva l'uomo vitruviano di Leonardo, tanto per dire. Quindi c'è di tutto. È proprio un libro glocale questo libro, perché parte da Varese e arriva alle radici dell'uomo. Adesso io non voglio svelare neanche troppo, perché così chi ci segue è anche invitato a prendere questo libro e a leggerlo. Però ti voglio chiedere un'altra cosa. Nella salita al Sacro Monte abbiamo citato i simboli, non ci siamo addentrati troppo. Esiste un richiamo a diverse composizioni di fede, no? Come dire, quello è il cammino del pellegrino per eccellenza, la riflessione sulla fede e sull'oltre. Ed è disseminata di spunti, di racconti, che magari, come dicevi giustamente, in tanti non colgono, ma che sono lì perché qualcuno li colga. Mi trovi perfettamente d'accordo, nel senso che leggendo i simboli, tra le pieghe dei simboli, c'è questo motivo di ricerca. Io mi sono sempre chiesto, ma perché avevo l'esigenza di salire a Sacro Monte così spesso e ce l'ho ancora? Ma innanzitutto ci sono degli elementi particolari, c'è l'acqua come elemento purificatrice. E vediamo che dove c'è un arco, ogni arco, quindi ci sono i tre archi, c'è sempre la sorgente d'acqua. Quindi non entro a parlare delle forze telluriche e cose di questo genere, che sicuramente poi gente più esperta di me potrà dire la sua. Però ci sono degli elementi particolari che attraggono, innanzitutto è una via stupenda, bellissima, silenziosa, e dove ovviamente si possono recitare i misteri del Rosario, il Rosario, ma non solo, perché a mio avviso è indipendentemente dal credo religioso, apre delle porte, appunto, e vanno al di là della nostra cultura cattolico-cristiana. Faccio semplicemente un riferimento. L'uomo verde, che noi troviamo spesso dipinto e rappresentato dalle nostre parti. L'uomo verde, mi viene in mente una grande santo, San Francesco, che ha unito, e anche qui non voglio entrare nei particolari, però la grande, a mio avviso, da profano, idea rivoluzionaria di San Francesco è quella di portare la ritualità agreste vestendola di cristiano. E qui abbiamo la stessa identica cosa, abbiamo questo uomo verde, simbolo di rinascita, simbolo di autorigenerazione, simbolo di un qualcosa che si perpetua nel tempo e che diventa immortale, come la figura di Gesù Cristo. Ripeto, poi ci sono molti altri elementi che ricollegano a tutto quello che dicevi, quindi esiste per il pellegrino insensolato, non solo per la religione, a mio avviso, cattolico-cristiana, un richiamo proprio a una riflessione e a un cammino interiore. Ringrazio davvero Roberto Caronno, invito tutti a leggere il suo libro Piccoli misteri del Sacromonte di Varese, edito da Macchione, prefazione di Simone Resetti e poi insomma, arrivederci a presto perché ci ritroveremo anche per altri dei tanti argomenti che Roberto Caronno vive con quotidiana competenza. Arrivederci, arrivederci a voi tutti. Grazie a tutti.